Ecco qua è forza Non ce la possono fare l'altra parte Qualche sgambata di prova naturalmente Secondo me non ce la fanno No ce la fanno le coste lunghe Io approfitto ogni tanto per il ringraziamento A fini giochi per oggi Credo che sia anche opportuno ringraziare Vedendo la scenografia Le persone che ci hanno aiutato a realizzare Questa scenografia del palco Vedevo Roberto Pucchia Il nostro addetto a lavori per la sagomatura per il palco Grazie Roberto Grazie Alessia che ha dipinto tutto il disegno A Giulio Limpagabile Anche qui Giulio De Cecco Che ha dovuto montare un'armatura particolare Per farleggere il pannello Antonio Sparaglio che ci ha dato la mano Sulle verniciature di protezione Quindi grazie a queste persone Che poi l'ottima sera ringrazieremo in maniera più opportuna Allora ci siamo concorrenti Giulio dov'è? Da qua? Ok Questo è il photo finish qua Sì Alla fine è scattato Per i bambini allargatemi un pochettino per favore Non lo capito metto qua Mettiamoci a fondo palco Mettiamoci a fondo palco Per magari fermare lo slancio degli atleti Luigi chiacchiareta sotto il palco Allora attenzione Primavera Primavera L'estate è al quarto posto Quindi il quarto posto è matematico Il quarto posto è matematico per l'estate Vediamo cosa succederà adesso Eh ma non li ho visti messi bene con la tri Ma però basta Quelli dell'auto che non vincano Senti quelli passi purtroppo ai Si sbilanciano in avanti E' il photo finish Occhio ai photo finish Occhio Allora Così faccio pure capito Inverno a posto Primavera a posto Pronti Dai dai È uscito l'inverno Vediamo qua Se ci consegna Non è uscito l'inverno Inverno al terzo posto Finalissima Primavera E' un buro Perché quello però Non c'è certo No ma Non ce l'ha 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 Ancchiato Pino da qui si sente un profumino Io sono proprio qua in direzione Terrificante Ieri sera invece Sant'Eta La tenizia E però recupereremo Recuperiamo Qualche gioco Non lo recuperiamo Ma le rimoteche Le rimoteche Sicuramente al limite facciamo l'apertura peribotica la chiusura come state? autunno a posto? attenzione pronti? c'è un golo all'ultimo momento sono cascati prima sono Giulio Gerardo io sono Giulio Gerardo Gerardo